E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! E' lo sfiato! Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo. Questa è la tua sfida. Questo è VRC3. E' amici di Youtube e amici di Frutala. Ben tornati qui con VRC3. Siamo sempre nella modalità Road to Glory. In questo video andremo a affrontare Roald Larsson, il campione finlandese scandinavo. Ok, ci sentiamo poi per i saluti finali. Ciao, a dopo! Gli organizzatori del Top Rally Contest hanno decisamente puntato sulla spettacolarità. Ma per quanto insoliti possano essere gli avversari contro cui correrai, l'unica cosa che conta è essere i primi a tagliare il traguardo. Gli organizzatori del Top Rally Contest. Gli organizzatori del Top Rally Contest. Gli organizzatori del Top Rally Contest. Grazie a tutti. Ehi, stai attento. Grazie a tutti. 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 Poi sinistra 2, in destra 3. Tornante sinistra e 40, sinistra 2. Destra 2, sotto il ponte, diventa sinistra 2. Freno a mano. Sinistra 2, sinistra 2. Sinistra 2, poi scicca in destra. E 40, sinistra 3, sinistra 3, sinistra 3. Sinistra 3, poi tornante destra, molto stretto. e sinistra 4, poi sinistra 4, poi sinistra 4, poi sinistra 4. e 60, 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 sinistra 2. Poi sinistra 4, poi sinistra 4, poi sinistrakaner. destra 2, sotto il ponte, diventa sinistra 2, freno a mano risotto, in sinistra 5, molto lunga attenzione, salto e salto e tornante sinistra, molto lungo 60, tornante destra, freno a mano e chicane sinistra, in sinistra 3 sinistra 2, poi chicane destra e 40, sinistra 3, in tornante destra sinistra 3, poi tornante destra, molto stretto e sinistra 4, lunga, apre poi sinistra 4 e salto, in sinistra 5 attenzione, sotto, poi salto e salto tornante sinistra attenzione, attenzione, stimolo a mano Grazie a tutti. 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 Nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio Fruit Lab account. Grazie.